Il periodico MCG festeggia i 15 anni di attività con una serata evento che si terrà mercoledì al Teatro Alberti di Desenzano. Un appuntamento importante per festeggiare un traguardo altrettanto importante per il direttore di MCG Marco Morelli e per tutto il suo staff. La serata Glamour dove ci saranno momenti di spettacolo, di enogastronomia sicuramente importante, di cultura e soprattutto il club della serata sarà la consegna degli MCG Awards 2019 che abbiamo chiamato i premi all'eccellenza che rispecchiano l'eccellenza del territorio. Cosa hanno rappresentato questi 15 anni? Hanno rappresentato per noi un'evoluzione di fare giornalismo in modo particolare in questo territorio dominato da due quotidiani, Gazzetta di Manto e Voce. Abbiamo fatto una scelta editoriale di non scrivere nessuna riga di cronaca o di politica, ma di fare un giornale d'approfondimento, fatto di interviste speciali, di una panoramica sugli eventi e sugli spettacoli dell'area e di creare rubriche che dessero la possibilità al lettore di avere un giornale di grande respiro, quindi un giornale nuovo, un giornale che noi abbiamo creato e che sarebbe stato il giornale che noi avremmo voluto comprare in edicola.